Si è tenuto questa sera a Portogruaro un seminario organizzato dalla Confcommercio Locale in collaborazione con Fondazione Think Tank Nord-Est e Tre Cuori Società Benefit per parlare di welfare aziendale e dei vantaggi che può portare a imprese, lavoratori e territorio. Nel panorama attuale di mercato, nella quale la burocrazia e gli impegni sono sempre più assillanti in un mercato molto competitivo, si è importante avere qualcuno, un suggeritore, un partner affidabile che metta in condizione tutti gli imprenditori di cogliere al volo quelle che possono essere delle opportunità da sfruttare per ottimizzare la gestione della propria impresa. È importante riuscire ad armonizzare l'impresa anche nei costi di gestione. Questa opportunità della legge di bilancio 2016-2017 è sicuramente una situazione da accogliere ed è per questo che ci facciamo voce insieme ai nostri partner, in questo caso Tre Cuori, proprio per sostenere il territorio, le imprese del territorio in un circolo virtuoso che può derivare dalla conoscenza approfondita di questa tematica. Una legge che consente alle aziende e lavoratori di godere di benefici fiscali e contributivi che migliorano appunto, ottimizzano il costo del lavoro, migliorano il clima aziendale e la produttività aziendale. Tutto questo si svolge dando la possibilità ai lavoratori di spendere dove loro preferiscono. È naturale che i lavoratori andranno a preferire quelli che sono gli erogatori di prossimità, di vicinato. È proprio per questo che le dinamiche di Tre Cuori, di Confcommercio e in generale di territori convergono e quindi questo genera un circolo virtuoso per il bene comune. Spesso qualche lavoratore è preoccupato che siano pochi servizi, ad esempio il dentista, la babysitter e pochi altri. In realtà ci sono anche l'assistenza alla persona, ci sono tutte le spese educative, l'istruzione ma addirittura anche le spese legate allo sport, alla ricreazione, al tempo libero, anche le vacanze, i viaggi perché si parla di un benessere del lavoratore molto ampio. Esteso anche alla famiglia del lavoratore? Sì, questo è un tema molto interessante. Non solo il lavoratore può godere dei benefici dell'Uefra aziendale ma anche la sua platea dei familiari. Non solo i familiari fiscalmente a carico conviventi, ma anche determinati familiari non fiscalmente a carico e non conviventi. Utile anche all'economia circolare? Questo è proprio l'obiettivo principale di Tre Cuori e di Confcommercio insieme a Tre Cuori, quello di fare in modo che le spese dei lavoratori possano ricadere nel territorio attivando benefici e allergando quelli che sono i beneficiari dell'Uefra in maniera molto ampia.